Buongiorno a tutti i bambini e a tutte le bambine, questo è un messaggio da parte dei vostri bibliotecari della biblioteca di Scanzo Rosciate. Tra poco riceverete una tesserina personale che vi consentirà di entrare nella biblioteca dei bambini, ovvero diventerete finalmente protagonisti di questa biblioteca, potrete venire a scegliere i libri, leggere tante storie e se in questo momento non è possibile farlo sappiate che i vostri genitori possono comunque ordinare dei libri apposta per voi. In occasione del Natale abbiamo pensato di allestire diversi tavoli con i libri più belli e di regalarvi una bellissima storia per Santa Lucia. È una storia dove il protagonista è un piccolo animale. Di quale si tratta? Lo scoprirete tra un istante.